ciao a tutti bentornati come una volta su indie gameplay ita oggi siamo su fast food manager un gioco che sembra essere uscito da early access nel senso che non lo vedo più flaggato così su steam costa 12 euro e 49 quindi non tantissimo e che cos'è è uno di quei classici simulatori di vita simulatori di attività economiche dove andremo a prendere una bancarella per cominciare inizieremo a servire i clienti e man mano svilupperemo le nostre economie personali fino magari a prenderci oltre a un chioschetto prenderci dei dipendenti prenderci dei locali proprio fisici dove andare ad esercitare la nostra attività quindi fornendo sempre più oggetti prima dal caffè al kebab insomma e ad altre cose nulla di nuovo per il genre per cui si trovano sul tubo tanti video di questo titolo però ve lo voglio far vedere lo esploriamo insieme lo vediamo dal punto di vista magari tecnico quindi deciso di diventare un gestore di un negozio di fast food bene questo è altamente incomiabile la tua attività e il primo passo verso l'indipendenza finanziaria se non va in bancarotta ovviamente è possibile acquistare i mobili modificare il design del punto vendita impostare il prezzo dei prodotti vedere l'elenco delle attività assumere personale quando si è pronti ad aprire una nuova direzione apri il tuo telefono p e acquista la tua prima banca quindi la prima cosa che facciamo andremo ad analizzare tutto insieme proprietà abbiamo a 100 dollari vedete che poi si può acquistare questo chioschetto insomma che non è un chioschetto base quelli da montare ma proprio un edificio un baracchino insomma fino a un palazzo e una casa grande l'acquistiamo la traduzione in italiano un po così perché il balance è bilancia che poi è scale la bilancia però va bene anche balance credo quindi scan mib carino compriamo ok possiamo comprare anche un letto per casa possiamo comprare 400 ma scusate quanti soldi abbiamo 400 dobbiamo comprare il letto qua si può comprare un divanetto mini divano quello chiama letto ma non credo che sia giusto adesso perché questa qua è casa nostra quindi andiamo con api e vediamo le mie attività abbiamo il nostro negozio con tutta la merce possiamo andare a impostare il prezzo quindi abbiamo le lattine insomma altre cose ma non mi va di spendere subito tutto vediamo la valutazione di indica empleita e di altri operatori nel settore carino al fatto che premendo col tasso si torna indietro lista delle cose da comprare acquista una bancarella comprare macchina al caffè sedi a tavolo ok ci costruiamo proprio tutto 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 si va diamo un'occhiata anche l'evoluzione del gioco quindi qua si fa questo avviare l'attività guadagnare 750 per la prossima attività aumentare l'assortimento acquista la bancarella di hot dog fare vari vari obiettivi avviare una nuova attività guadagnare ok a tenere la licenza per vendere birra in bottiglia bancarella di kebab licenza per birra alla spina quindi vendere anche quella avviare una nuova attività quindi quella di venditori di kebab poi negozio di hamburger pizzeria si arriva fino alla pizzeria e diventa top 1 uomo d'affari delle città ok questo è il base ci sono anche la possibilità c'è anche la possibilità di prendere assumere personale intanto qua c'è la navigazione che non capisco effettivamente come funzioni perché mi dà scusate profitto navigazione ma non vedo niente ancora licenze possiamo ottenere la birra in bottiglia a ci costa alla settimana la cosa carina di questo di questo gioco è il fatto che ma qua si esce proprio direttamente così la cosa carina di questo gioco che amministriamo noi le nostre scorte e quindi questo è molto molto bello mobili da cucina vabbè qui è solo per il nostro sfizio perché non credo che avremo altro da fare e allora abbiamo la nostra grafica del disagio andiamo a cercare la nostra bancarella che dovrebbe essere nella nella piazza del paese credo qua dovrebbero esserci tutti gli edifici infatti noi siamo qui la nostra casa è qua vediamo se c'è navigazione ok è questa hot cars la nostra bancarella è questa tengo premuto per rimuovere puliamo un pochino ma siamo proprio agli inizi inizi qui bisogna proprio bisogna proprio faticare bisogna proprio buttare via tutto perché l'area è abbastanza disagiata salve ok quindi ma vabbè butterò via buttiamo via tutto e prepariamoci ad aprire la nostra attività cioè siamo stati ovviamente fregati perché abbiamo preso questa bancarella che non è proprio il massimo e abbiamo anche una compagnia abbastanza inquietante qua davanti e quindi dovremmo andare a comprare le nostre scorte e iniziare a vendere che poi può essere abbastanza ripetitivo il gioco però è uno di quei classici giochi che io ritengo un po anti stress nel senso che uno vuole si porta avanti ha un po di tempo si porta avanti un po la sua la sua attività usare impossibile aprire il negozio aprire l'elenco dell'attività ok perfetto perché dobbiamo fare dobbiamo fare queste cose quindi bisogna andare a comprare una macchina di caffè una sedia un tavolo zuccherà ok quindi diamo un'occhiata alla mappa siamo di fronte al mall quindi tecnicamente dovremmo andare qui dentro credo no credo sia dietro perché questo qua è un bar insomma dovrebbe essere un competitor un nostro avversario qua c'è cos'è la chiesa dei scientologi andiamo avanti no dove cavolo è la il market si qua dietro credo no questo è un distributore ah ok di qua ah si eccolo qua il il market allora dobbiamo comprare vediamo un po la lista delle cose da fare non abbiamo un tasto veloce allora macchina del caffè sedia e tavolo macchina del caffè sedia e tavolo peccato che non le vendano qui quindi qua inizio a prendere questo ciambelle no vediamo un po che cosa bisogna prendere zucchero latte acqua caffè ma non c'è niente di tutto ciò questo cos'è hot dog stand questo sarà pacchetto di pane kebab la pasta panini panini tazze di patatine fritte olio acqua ok ne compro uno bastoncini di zucchero si 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 ok si le chiamo bastoncini di zucchero ma tazze da caffè ne compro due scatole qui abbiamo ancora zucchero qua abbiamo tazze di patatine fritte tradotto un po così eh acqua l'abbiamo presa poi carote no latte ne prendiamo un paio di latte qua abbiamo cottolette crude patatine fritte carne di kebab qua abbiamo salsicce lì abbiamo la pizza glassata qua abbiamo tavolette di cioccolato no qua abbiamo cioccolato qua abbiamo ciambelle qua cos'è doggy pacchetto birra no non abbiamo la licenza birra scura soda cornetto tazze di birra che poi vabbè tazze di birra non si può leggere un tagliere io lo prendo per sicurezza supporto coltelli li compro qua è un fusto di birra che non mi interessa vediamo se b hot gas parking no cavoli non ho ancora preso niente di quello che mi interessa non allora impostare i pressi per le merci macchina e caffè sedia mannaggia non non mi insegna niente il tutorial quindi vediamo ah c'è anche il video integrato quindi property compriamo questo perfetto sì e fin lì ci siamo poi my business ah dobbiamo cliccare lì no abbiamo il business ok perfetto vediamo se abbiamo altro da per l'apprendimento place equipment goods for the worker ok no il lavoratore no allora allora la macchina e il caffè non la vende nessuno facciamo un giro vediamo un attimo che cosa c'è d'altro qua ok eh sì vendono il tavolo con la sedia ne compro quattro ok molto interessante prendiamo avanti li hanno messi tutti qua quindi macchina e il caffè macchina e il caffè che è questa inventario completo mazzarola bisogna andare a mettere a posto queste cose salve non parla vabbè allora andiamo a mettere le cose al nostro banco vicino al gas station è un po' tosta da fare a piedi ogni volta ma vabbè tanto due minuti e siamo qua allora questa mamma mia allora allora vediamo un po' come funziona il nostro inventario ok iniziamo a prendere l'acqua lo metto lì poi mettiamo cose di zucchero cose di zucchero prendiamo il latte prendiamo un altro latte il caffè ok beh i coltelli li lascio lì non mi servono ancora ma li rimetto qui che cacchio mettili lì ah devo apparirlo ah non me lo lascia fare perché lo devo mettere qua sul tavolo vabbè rimettilo nell'inventario poi ci pensiamo dopo un tagliere no non me lo fa non me lo fa mettere vabbè mettiamo la sedia iniziamo dal basso eh iniziamo dal basso con quattro sedie una l'altro intorno è contento che ci stiamo prendendo l'attività una due tre cerchiamo di mettere un po' distanziate quattro ok poi vabbè queste cose mi dà fastidio le butto poi qui che tanto non non me le farei chi vero tu ok andiamo a prendere la macchina del caffè e vediamo intanto che cosa ci manca per avviare la nostra attività intanto qua vediamo esaurito no vabbè apriremo dopo l'attività vediamo le liste di cose da fare macchina del caffè zucchero latte caffè acqua tazze ci manca zucchero il caffè personalizza l'aspetto del bancarello e poi vediamo dai vediamo anche quello allora zucchero acqua allora l'acqua ce l'abbiamo lo zucchero l'abbiamo preso il caffè ci manca il caffè non l'ho trovato adesso continuiamo qua nella via degli acquisti se troviamo qualcosa ma non credo perché qua abbiamo la macchina di caffè ok comprata bella ci sono il piano grande frigorifero cioè ci sono un sacco di un sacco di cose da da poter fare e qua ci sono altri baristi altri avversari diciamo commerciali la città sembra abbastanza viva per quanto con grafica solita grafica disagiata poi vabbè con questo non voglio mancare di rispetto a nessuno però si vede che comunque i giochi di questo tipo che a me tra l'altro piacciono anche sono sempre così eccolo qua il caffè coffee ne compro due dai costa dieci vediamo che punto siamo attività completata infatti lista delle cose da fare ok rimuovo la spazzatura intorno cioè vedete che è tradotto un po' così perché dice intorno alla stalla no ok macchina di caffè l'abbiamo presa abbiamo tutto dobbiamo personalizzare l'aspetto della bancarella adesso vediamo anche come fare e poi possiamo aprire la nostra attività con un tavolino solo allora prendo inventario macchina di caffè la mettiamo qui prendiamo il caffè uno e due è buono qui è buono qui qua si può usare ah ci mette già l'acqua all'interno credo ah ok ho versato l'acqua all'interno quindi l'acqua c'è dobbiamo versare già anche il caffè ops caduto ok ed è pieno anche quello e poi il latte ok la macchina è pronta e possiamo scegliere quale di due fare prendendo una tazza vabbè intanto abbiamo fatto questo andiamo a vedere se riesco a vedere l'attività prezzi in vendita mettiamo i prezzi no 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 caffè 250 è diciamo abbastanza economico caffè 250 personalizza visualizzazione ok possiamo cambiare il opacità ah il logo questo look into my coffee high lo mettiamo facciamo così va element 1 element 2 element 3 cioè possiamo personalizzare diverse cose come colori bello vabbè è ben fatto no non ti va bene così eh lo chiamiamo coff fin di personalizzo mi piacerebbe sapere come si fa a salvare ma abbiamo fatto dai anche questo non è male perfetto va bene dai dovrebbe andare mi diceva che dovevamo buttare via tutta la spazzatura ok abbiamo pulito P vediamo come si è messi eh ah questo è person ah no no scusate eh vediamo un po' cosa è da fare rimuovi la spazzatura intorno alla stalla vabbè intorno alla alla bancarella eh c'è forse qualcosa ancora no questi sono tuoi devo pulire qui ok e devo pulire qui dovrebbe essere a posto adesso e mettilo lì e mettilo lì ok non credo serva altro no c'è ancora roba da buttare ah questa mega macchia ok attività completata possiamo cominciare ma che dobbiamo fa dobbiamo avviare l'attività quindi possiamo attivarla no 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 vediamo un po' profitto no ok avvia un'attività come si avvia un'attività in questo caso può venirci in aiuto questo open shop ah ok si cambia il no da lì ok perfetto beh è sera tardi quindi però coffee nella giornata lavorativa finita torna domani mattina perfetto quindi adesso svoltiamo a sinistra andiamo a casa non abbiamo un letto e quindi non possiamo dormire abitiamo proprio in questa in questo hotel e e quindi non dobbiamo aspettare il giorno successivo posso comprarlo? no non ho abbastanza soldi vabbè aspetteremo la giornata successiva e poi ovviamente senza letto mi toccherà aspettare manualmente che passi la notte e arrivi la mattina aspettiamo e vediamo cosa succede ok possiamo finalmente aprire l'attività alle 6 di mattina non abbiamo un soldo in tasca oddio potremmo anche come dice il nostro la nostra lista delle cose potremmo aggiungere il croissant ma al momento noi forniamo solo caffè quindi abbiamo un tavolino solo iniziamo dal basso prendiamo prendo x per rimuovere ah ok no mi si è seduto qualcuno nuovo un caffè con allora prendo unità metto lì scelgo il caffè con il latte ok ah eh lei vuole il caffè con latte ok glielo faccio subito bisogna imparare un attimo di tasti preparo già oh no 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 mettilo lì prendo altri bicchierini qui da far veloce ok questo è per lei eh si va via ok eh il signore li vuole con lo zucchero quindi quindi caffè con eh così prendo unità e metto lo zucchero e glielo zucchero eh signore con il cappello a lei ok già stanno andando via allora iniziamo a prendere questo vuole caffè con latte senza niente fatemi prendere già dei bicchierini e diventa estenuante la cosa eh che cacchio questo lo diamo a lui ok vuole il caffè con lo zucchero ok quindi il tizio lì con la cosa quadretti quindi caffè e zucchero ok ah eh si ecco qua poi un altro invece vuole caffè con latte e zucchero anche l'infermiere qui ha bisogno solo di un caffè che poi qua possiamo decidere di ottimizzare le cose mettendo magari mettendo magari due macchine al caffè che ce le fanno contemporaneamente quindi sarebbe una bella spesa un 150 dollari in più ma allora per il dottore questo invece camicia quadretti vuole il caffè normale poi diventerà più complicato perché andremo a magari a prendere a gestire comunque più cose quando faremo il kebab quando faremo i panini quando faremo le pizze diventerà comunque più complicato allora il militare vuole il caffè con lo zucchero lo metti il militare quale questo ok e il tizio lì incappucciato vuole il caffè con latte e zucchero a lei il dottore vuole caffè con latte e zucchero e poi un altro con caffè che mi mette anche un po' ansia qua davanti quindi ok lei vuole invece caffè e latte e basta intanto le ore passano cioè le ore passano ci mette un bel po' ad andare avanti la cosa ok grazie poi il capo qui con i baffi vuole caffè latte con zucchero sì poi dobbiamo farne un tot al giorno oh cacchio ci dice anche la quantità di scorte che abbiamo se finiamo le scorte è un problema il tizio qui un po' un po' sveragolo vuole solo il caffè è normale non ho abbastanza tazzine ok caffè normale con zucchero vedete ce ne da 30 qua ne abbiamo ancora 20 22 ecco lei la signora vuole solo un caffè o solo bicchiere poi prepariamo già la tazzina dopo che è il caffè con latte quindi questo qua questo qui caffè con il latte e basta e la diamo la signora questa è la signora con il caffè di Gaigi a lei e questo invece il caffè latte è normale alla signora così ma scusate siete tutti 15 gradi cavoli fa freddo vabbè il signore è molto misterioso vuole il caffè latte e basta e questo è l'inizio poi ovviamente dovrete ripetere queste attività giorno per giorno accumulare un po' di soldi e e alla fine espanderete la vostra attività allora prendiamo i soldi intanto che non ho ancora preso fino adesso avevamo 114 adesso abbiamo 156 no è stato un buon fatturato lei vuole solo il caffè ok mi domando ma la macchina ha ancora caffè no ce n'è ancora bello anche questa cosa che dovete gestire le quantità d'acqua e di caffè all'interno nuovo ordine caffè latte con zucchero per il signore con i capelli rossi ok ovviamente voglio farvi vedere com'era un gameplay di questo titolo è interessante è carino non è niente diciamo di capolavoro la poliziotta vuole caffè latte intanto glielo preparo subito bisogna fare attenzione a non fargli aspettare troppo il signore è qui a lei poi nel caso in cui aggiungessimo altre cose ah è il signore là quello no è là non è lui vabbè caffè con zucchero nel caso in cui comunque decidessimo di introdurre altre cose come i croissants le brioche insomma e altre cose cioccolatini li dovremmo aggiungere andare ad acquistare fisicamente ma anche poi prezzarli sull'estino prezzi allora la signora militare bionda vuole solo il caffè senza niente amaro come la vita il signore forzutto qui vuole il caffè latte e basta mi fa anche un po' paura quindi glielo faccio velocissimo c'è il tempo sotto con la barra verde che diventa arancione poi rossa e poi se ne vanno arrivederci e dai tirano su altri soldi ok bisogna poi fare attenzione a non farlo diventare fareddo perché se ne facciamo tanti insieme e poi vedete che esce in alto a sinistra la temperatura potrebbe essere un problema allora caffè latte ancora e poi abbiamo un caffè latte con zucchero non stai erogando è finito il coffee infatti ok per la signora qui lei vuole solo il caffè e abbiamo quasi finito l'acqua fatemi prendere altri soldi ok camicia quadretti solo caffè vediamo finché basta ok maglietta rossa solo caffè silenzio silenzio e poi un caffè latte credo sarà l'ultimo quello no scusi no ma ah perché è finito si è ravesciato vabbè usiamo sempre lo stesso bicchiere ok a lei no ah maglietta rossa questa ok scusate ma dobbiamo chiudere coffindi chiude perché non abbiamo più soldi cioè non abbiamo più materiali quindi in questo caso dobbiamo tornare indietro andare di là e comprare quello che ci manca cioè in questo caso comprare dell'acqua del caffè e magari anche dei bicchierini insomma questa è la base del gioco adesso non voglio soffermarmi troppo perché il gameplay è abbastanza ripetitivo però abbiamo accumulato un po' di soldi dobbiamo arrivare a 7,50 e una volta arrivati a 7,50 potremmo decidere di andare ad acquistare l'altra attività per quanto l'altra attività costa di più poi si possono acquistare le licenze e quindi acquisire nuove possibilità di vendita tipo la birra in bottiglia o la birra alla spina intanto questi qui sono qui anche se è chiuso intanto si sono fatte le 16 beh la giornata passa anche abbastanza rapidamente il bar però è chiuso io intanto ho riportato l'acqua qui intanto la aggiungo l'altra la metto qua sotto ho preso anche il coffee il coffee qui l'acqua scusate ma quest'acqua qua no 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 voglio metterla in inventario vediamo quanto acqua c'è no eh ok ce l'avevo già vabbè il latte io comunque uno lo aggiungo e l'altro lo metto qui molto interessante ovviamente non il gioco non il gioco della vita però senz'altro questo fast food manager 12 euro carino se amate i simulatori di attività con questo è tutto fatemi sapere qua sotto nei commenti alla prossima e ciao 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 Grazie a tutti